Vi aspetto anche a Cosenza che è la mia città A Cosenza! Avevo riconosciuto pure l'accento Tu lo sai che Cosenza, Ilaria ascolta queste parole Tu lo sai che Cosenza ha cambiato la mia vita? Cioè? In realtà da piccolino facevo dei festival regionali in Sicilia Li vincevo tutti perché ne ho fatti 10 su 10 in un'estate Ma quanti anni avevi? Avevo 14 anni, 13-14 anni Prima di andare in tv? Prima di andare in tv Verso il mese di settembre mio padre mi dice Andiamo a Cosenza, c'è un festival, si chiama Tour Music Fest Io ero stufo di tutto questo No ti accompagno 24 ore, andiamo e torniamo Dai papà non mi va, non mi va Mio padre mi convince e andiamo In questo festival c'erano tantissimi partecipanti Quindi ho cantato un amore così grande E la voce del silenzio mi mandarono a casa Ovvero non mi hanno preso in quel festival lì Però siccome i talent scout di Ti lascia una canzone È tutto un giro interno Quindi i talent scout chiamano il presidente di questi festival che organizzano Quelli del Tour Music Fest di Cosenza Diedero il mio nome E hanno detto Anche il set era mandatria Non faceva parte dei talenti, del timbro vocale, dello stile musicale che cerchiamo noi Però è l'unico nominativo che possiamo darvi Quindi se io non fossi andato a Cosenza non sarebbe successo tutto questo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti